Domani in Consiglio regionale si celebrano ufficialmente i 50 anni dello Statuto di autonomia della prima riunione che c'era stata nell'allora sede del Consiglio Comunale di Trieste non era stato ancora costituito il palazzo della regione quindi un appuntamento significativo che cade in una stagione particolare una stagione nella quale l'autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia in qualche modo viene messa in discussione ecco perché quando questa iniziativa che è promossa dal Consiglio regionale è stata messa in campo si è deciso così di assecondare in qualche modo il titolo che era stato scelto dagli organizzatori di Estoria per proporre questo importante appuntamento e cioè Trincea e si era detto ragioniamo di una regione in Trincea come è effettivamente in questo momento perché le ragioni della specialità in alcuni casi vengono messe in discussione le diversità che ci sono in questa regione di tipo linguistico, storico, culturale ed economico sono delle potenzialità enormi che devono essere condotte in un progetto unitario proprio utilizzando gli strumenti dell'autonomia e della specialità è una sfida grandiosa ma oggi siamo tornati al centro dell'Europa siamo nel cuore dell'Europa purtroppo la nostra regione per decenni se non addirittura per secoli ha pagato un prezzo altissimo il fatto di essere al confine orientale fino a pochi anni fa c'era la divisione del mondo in due blocchi e noi abbiamo sofferto questa condizione oggi che siamo al centro della nuova Europa dei popoli e delle autonomie locali dobbiamo utilizzare fino in fondo l'autonomia e la specialità che ci è riconosciuta dalla legge costituzionale 1 del 31 gennaio 1963 cioè il nostro statuto di autonomia sta a noi oggi a tutte le componenti politiche difendere i principi fondamentali contenuti in quello statuto e utilizzare la nostra autonomia, la nostra specialità certo per far crescere e fare l'interesse di questa comunità regionale ma in un disegno più grande che comprenda l'Italia l'interesse anche del nostro paese e dell'Europa Gli Stati Uniti cominciano a diventare una potenza globale proprio con la prima guerra mondiale in particolare con l'entrata in guerra nel 1917 probabilmente gli Stati Uniti non volevano partecipare alla prima guerra mondiale Gli Stati Uniti naturalmente sono stati fondamentali per la vittoria prima di intervenire perché hanno aiutato finanziariamente con i rifornimenti, con le armi e con munizioni i paesi che erano già in guerra, la Gran Bretagna e la Russia a partire dalla metà del 1941 e poi perché con la loro presenza sul campo di battaglia con lo sbarco in Normandia e soprattutto con la bomba atomica la bomba atomica ha dato al mondo la sensazione che questa grande potenza dopo aver sconfitto i giapponesi in Asia e la Germania in Europa avesse voglia di continuare ad avere un ruolo mondiale i mezzi li aveva, il denaro l'aveva, la bomba atomica l'aveva ma naturalmente questo non sarebbe accaduto se gli americani non avessero avuto voglia di esercitarlo quel ruolo abbiamo l'evento topico forse di tutta questa Kermess cioè quella che gli americani chiamano smoking gun ovvero la canna fumante, la pistola fumante l'evento che diede fuoco alle polveri dalla polveriera balkanica esplose si difuze tanto da diventare un conflitto mondiale Deda je obešen 1915. godine 3. februara kada je moja majka imala samo godinu dana moja baka se nikada nije udala a živala je vrlo dugo do 1969. godine umrla je u 1985. godini mi smo se dede sećali sa najvećim pijetetom a i država je prilikom godišnjica obeležavala sarajerski atentac sa velikim poštovanjem dakle on je obeležavan i u staroj Jugoslaviji između dva rata i u novo Jugoslaviji kao slobodilački čin sada možda postoje razlike kako pojedine republike gledaju na to ali u Srbiji se na to uvek još uvek gleda kao na heroiski čin a tako i republiti serbskoj La nostra chiacchierata di questo pomeriggio, di questa sera sarà una chiacchierata ovviamente sui ricordi diciamo così di questo nonno così importante ma anche per certi versi ingombrante, imponente mito del novecento ma anche sulla sua attività di scrittore giornalista John č figlio di Gregory il pių piccolo dei figli che ha avuto Ernest Hemingway e ha scritto un libro qualche anno fa pubblicato dalla Lion Press ma non ancora tradotto in italiano una lacuna che andrebbe colmata al pių presto che si chiama Strange Tribe ne parleremo fra poco e sta scrivendo dei racconti adesso è andato a vivere a Montreal dopo aver vissuto anche tra l'altro quasi vent'anni in Italia a Milano Amiro molto il suo lavoro la passione che... l'impegno che... ha messo dentro qualsiasi cosa che lui scriveva Mio padre non mi parlava mai di Milano perché infatti cercava di tenere quella distanza era abbastanza per lui cioè... trattare con gli incubi e i mostri del passato non si sentiva di coinvolgermi il primo brano si intitola Andammo a stare in una casa a Gorizia L'anno dopo ci furono molte vittorie la montagna di là della valle e il fianco della collina col castagneto furono conquistati e ci furono vittorie di là della pianura sull'altopiano a sud e attraversammo il fiume in agosto e andammo a stare in una casa di Gorizia che aveva una fontana e molti grandi alberi ombrosi in un giardino cintato e da una parte un pergolato di glicini violacei Ora i combattimenti si svolgevano nelle montagne adiacenti meno di un milio lontano La città era molto carina e la casa molto bella Il fiume scorreva dietro di noi e la città era stata conquistata molto bene ma le montagne non eravamo riusciti a prenderle ed ero molto contento che gli austriaci avessero l'aria di voler ritornare nella città a guerra finita perché così non la bombardavano per distruggerla ma soltanto un poco colpendo obiettivi militari È una lettura straordinaria anche perché questo è un anno particolare c'è un forte ricordo c'è questa terra che ha respirato in pieno il clima di quella guerra e di quegli anni e Menguele ha raccontato in modo mirabile ha raccontato i nostri luoghi e in questo contesto per me è stato molto emozionante leggere le sue parole e vedevo comunque anche la cosa molto bella vedevo anche l'emozione nella gente questo vuol dire che manifestazioni come queste aiutano a tenere forte e viva la memoria che è il nostro patrimonio più importante Un'edizione che è andata direi in maniera quasi perfetta incontro all'aspettativa perché tutti gli ingredienti che avevamo pensato all'inizio hanno trovato forma ogni tassello si è bene incastrato in un affresco compiuto rigoroso, sobrio come avevamo detto all'inizio della grande guerra è stata una fluenza record è un'edizione sicuramente disvolta da questo punto di vista è un festival che diventa molto più festival delle edizioni passate per un coinvolgimento evidente agli occhi di tutti mi riferisco naturalmente al pubblico che animava la città oltre che i luoghi in cui molto numerosi si svolgevano gli appuntamenti del festival grazie a tutti 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 grazie a tutti